Buonasera, come annunciato ho fatto un piccolo cambiamento che potrete trovare le informazioni sulla pagina ptgis.coa. Il cambiamento consiste nel registrare dei video di mezz'ora delle lezioni e dopo successivamente, dopo un po' di giorni, sempre con un appuntamento al mercoledì, discuterne sulla lezione che ho pubblicato in precedenza. La cercherò di pubblicare quanto prima, uno, due, se riesco anche tre giorni prima. Quindi cosa succede? Voi potete vedervi con covodo le registrazioni delle lezioni e poi durante l'hangout, che non saranno più in streaming in diretta ma comunque registrate e rese disponibili successivamente, parliamo e trattiamo gli argomenti che ho fatto nelle lezioni precedenti, come in questa e in questo caso, col titolo, le raccolte informazioni e le fonte dei dati geografici. Qui ad esempio vedo che c'è un errore della data di pubblica. Bene, anche queste slide saranno pubbliche e come dicevo, sì, niente, c'è un avviso e niente, questa sarà già subito la presentazione e la lezione dell'hangout. Partiamo. La raccolta informazione è le fonti dei dati geografici. È la seconda lezione che faccio per il GIS base. Infatti questo meccanismo funziona sia per il GIS base sia per il GIS avanzato e vediamo subito. Questa appunto è una delle quattro lezioni programmate. Qui tratterò il geodatabase regione Lombardia che è la fonte ufficiale per i dati regionali e comunque a scala vasta della regione Lombardia che è dove vivo e dove opero, quindi conosco meglio, però so che ci sono altri geoportari. Il database topografico che risulta una fonte di dati standard con cui si archiviano la cartografia principalmente di base. Vedremo altre fonti da cui attingere i dati, i metodi di archiviazione di questi dati, i metadati con cui vengono accompagnati i dati, come elaborare e vedere il test immagini, tabelle e geometrie per vedere i dati nascosti. Farò un breve accenno sul perché tutti questi dati geografici non prendono così valore, comunque non sono così gestibili dai software CAD come del resto però è modo di fare per molti professionisti. L'importanza sui vari software d'ufficio, non solo GIS e appunto un breve accenno sulla manipolazione dei dati. Ok, quindi il geoportale della regione Lombardia. Il geoportale della regione Lombardia si prefigura come il portale in cui vengono archiviati tutti i dati e poi da questi ultimi tempi viene pubblicizzata molto il fatto che questi siano open data. Se non sbaglio la regione Lombardia è tra i maggiori divulgatori di open data anche se non rientra tra i primi classificati come riportava un articolo del Sole 24 ore. Comunque ha un livello di qualità 4 su 5. Nel geoportale ci sono diverse sezioni che col tempo, questo è dato dal fatto che col tempo sono usciti diversi servizi. All'inizio un geoportale che vedevamo con una schermata tipo questo in cui si sceglieva la base cartografica e poi venivano caricati i vari dati di riferimento. Poi si potevano scaricare i dati tramite una schermata simile a questa qua giù in basso a destra che adesso è stata sostituita direttamente dal portale open data della regione Lombardia e ci permetteva molto utile come servizio di visualizzare le ortofoto. Un'alternativa a Google Map e poi sicuramente questo qua è una tipologia di aggiornamento delle ortofoto molto più consolidato anche se per alcuni versi risulta meno aggiornato di altri servizi come Google Map o Bing Map. Nel geoportale è stato un po integrato anche il Sivas che lo possiamo vedere qua in cui il sistema informativo per la valutazione ambientale strategica in cui si possono visualizzare le procedure della VAS e comunque è un archivio di dati e documentazioni dove si possono trovare in particolare molte tavole elaborate su come si stanno trasformando i nostri territori attraverso la pianificazione territoriale. Un altro geodata molto importante è il database topografico. Il database topografico dovrebbe sostituire completamente la carta tecnica comunale e deriva da in precedenza una direttiva comunitaria Inspire, poi segnalo la trasformazione in Italia con l'intesa GIS, l'intesa stato regioni e enti locali e la regione Lombardia attraverso una normativa tecnica delle iniziative di cofinanziamento per produrre questi database topografici e l'avvio di procedure di valizzazione e di verifica dei dati che gli vengono consegnati ha prodotto appunto questa che è un'immagine rappresentativa di come può essere trasformato il database topografico ma che permette di capire come sono gestiti adesso i dati con la logica del GIS. Questi dati vengono consegnati in formato shapefile o ad ognuna di queste geometrie associata una tabella e questa tabella viene tutta codificata. Mediante questa codifica e mediante la lettura di un di un manuale di uno schema dati si può risalire le varie tipologie di geometria e i vari codici che sono stati attribuiti alla tipologia ad esempio vediamo qua che nella colonna c'è ad esempio mi sembra che ho cliccato uno di questi edifici no questa qua è la tabella degli edifici quelli che vediamo qua marroni o comunque tratteggiati per la diversa tipologia ho riportato graficamente la simbologia in base alla edific uso edific uso è l'attributo della categoria d'uso qua ci sarà un'altra tabella che mi dice che tipologia d'uso è questo 020101 al posto di 029 questo è molto interessante verrà ripreso molto negli esercizi il database topografico perché risulta essere una base dati molto ricca di informazioni e spalmata molto bene sul territorio le altre fonti da cui attingere i dati beh diciamo che sono molte e sono molte le fonti da cui attingere i dati possiamo citare alcuni come l'istat l'ente per la protezione ambiente regionale poi le varie province poi ci sono i comuni sono veramente tanti ho visto dei manuali gis in cui raccolgono decine di pagine da cui si possono attingere questi dati però io ho cercato di fare una classificazione che è quella che vedete qua e ho trovato ambiente economico energia e così via paesaggio rubano uso del suolo e per farvi dare l'idea di perché organizzare questi dati io vi ho rappresentato qui le cartelle qui quando io organizzo i file di progetto creo una cartella materiale sotto questa cartella materiale vado a creare queste ulteriori tabelle e queste ulteriori cartelle e qui inserisco i dati che ricevo dai vari enti o comunque anche dai privati o comunque da un rilievo organizzato e insieme a questi inserisco i dati magari della delibera o comunque tutte le informazioni che possono derivare che possono dare un significato informativo a questi dati da dove provengono quando sono stati pubblicati da chi sono stati fatti e così via successivamente vedremo come sono cosa vuol dire avere i metadati questo è una sorta di trucchetto per acquisire ancora più dati se i metadati appunto come vedremo non sono fatti bene allora il metodo di archiviazione dati qui è sicuramente molto interessante capire ok questi dati li prendiamo e li archiviamo quello che solitamente viene effettuato è questa procedura ho evidenziato in due colori diversi le varie fasi perché le fasi colorate in rosa arancione chiaro sono delle fasi diciamo sottintese e derivanti da delle metodologie pratiche ma che sono spesso sottovalutate infatti diciamo arriva il dato da destra che può essere dal lente dal privato o effettuato da un rilievo e poi questo dato alla fine viene archiviato ma tra la fonte esterna e l'archiviazione dei file ho necessità di effettuare una verifica di questo dato ok il dato va bene deriva da una fonte certa deriva da una fonte non certa ma comunque ha una qualità che può essere verificata ok questo è la prima file o comunque la seconda fase e la prima fase diciamo tra virgolette nascosta e se il dato va bene segue con la seconda procedura ok incominciamo a leggere la struttura se è conforme a qualche standard o comunque è stata archiviata anche magari con metodologie vecchie o comunque metodologie sviluppate da un ufficio in particolare per alcuni dati e infatti come di solito succede mi viene subito in mente quello dei dati meteorologici ci vengono consegnate delle tabelle excel con delle intestazioni di colonna molto varie con scritte con molte descrizioni nel campo della colonna con dei colori magari non allineate con l'unione delle celle questo vuol dire avere una struttura dei dati non standard e la difficoltà è prendere questi dati ad esempio metterli dentro un database che è molto utile e la fase finale l'archivio viene messo nel database vi rendete conto che un file excel organizzato un po' per essere anche stampato perché di solito è quello il problema viene richiesto un file excel ma effettivamente questo qua non è un file excel che deriva da un database ma è un file excel che è stato elaborato per essere stampato e messo nelle relazioni utile comunque più utile del pdf ma con una struttura non standard quindi a questo punto bisogna prendere questi dati e adeguarli allo standard interno vi dico anche che delle fonti ufficiali creano delle strutture standard dei dati ma può essere anche che sono diverse tra loro magari diverse tra loro dell'anni mi viene in mente il DUSAF che è stato fatto mi sembra che adesso è alla quarta versione se noi proviamo a confrontare ad esempio per il consumo di suolo e mettiamo insieme gli shapefile del DUSAF1 con i shapefile del DUSAF4 vi posso assicurare che ci sono molti problemi quindi visto come la procedura è più adeguata per adeguarli allo standard interno passiamo all'archivio e i dati cartografici, cartacei in formato pdf, immagini, magari anche file excel così vengono tutti archiviati in questa cartella e quello che invece può essere subito trasformato o comunque anche trasformato in un secondo momento si cerca di metterlo nel database perchè noi l'obiettivo è avere un sistema informativo territoriale che si basa su un unico database che si basa su un sistema informativo e iso allora i metadati i metadati che come proprio leggo dal libro quella di preparazione alle cdl alla patente europea per il computer di GIS sono la meta informazione che si può definire come una sorta di catalogo ovvero un elenco delle caratteristiche e delle proprietà relative a ciascun dato queste informazioni permettono di capire subito che cos'è quel dato quando si prende il dato si leggono i metadati si vede la fonte, si vede la competenza comunque la qualità del dato quando sono stati aggiornati e si capisce senza utilizzare magari subito dei software GIS senza creare dei database enormi soltanto per leggere questi dati si cerca di capire subito se servono o meno questi dati oppure se dobbiamo fare un nuovo rilievo facciamo una ricerca attraverso dei motori di ricerca che ti permettono di vedere se quel dato lì c'è attraverso delle parole chiave infatti ci sono descriptive keywords se dobbiamo effettuare un rilievo oppure è già esistente e possiamo verificare subito che tipologia di licenza ha se sono disponibili, se sono pubblici o se bisogna acquistarli questo qua è tutto un elenco di descrizioni che potrebbero essere associate ai metadati ce ne sono alcune opzionali alcune specificatamente richieste non sto qui a linkare ci sono diversi standard con cui sono stati costruiti i metadati si può applicare uno o l'altro dove non è richiesto se viene richiesto bisogna specificatamente usare uno standard rispetto all'altro di contro a questo c'è che non sempre i dati vengono distribuiti con questi metadati è non solo una buona regla ma è anche obbligatorio creare questi metadati ma non sempre vengono inseriti i metadati come richiesto questo appunto fa parte della verifica del dato io arrivo, ho una necessità di dato cerco nel database nel motore di ricerca dei metadati se questi dati sono già disponibili se non sono disponibili passo oltre e se sono disponibili verifico se sono quelli che diciamo fanno al caso mio un'altra informazione molto utile è la verifica del sistema di riferimento ci sono appunto diversi sistemi di riferimento e soprattutto questi qua sono e in particolar modo questi qua sono quelli utilizzati in Italia e è buona regola cercare di uniformare per i vari progetti il dato attraverso delle trasformazioni ad esempio se vediamo il VGS 84 UTM zone 32 l'ED50, il VGS 8326, il 3857 diciamo che se abbiamo questi dati se abbiamo un sistema di riferimento con questi dati possiamo tranquillamente utilizzare queste banche dati così come sono con delle proiezioni al volo che ormai i GIS permettono di fare quando si però si deve incominciare a editare i dati e comunque produrre la cartografia e si deve cercare di creare un database proprio è consigliabile trasformare tutto in un unico sistema di riferimento quello che si prima non ho messo anche le TRS 89 quello che si cerca di seguire fino ad oggi era questo qua l'ED50 adesso visto che si stanno spostando molto sull'ETRS 89 anche se in previsione di utilizzare l'ETRS 2000 si usa l'ETRS 89 viene specificato che la precisione tra uno e l'altro non è poi così grande per gli utilizzi locali per la pianificazione territoriale si usa una più curata precisione per scopi di rilievo topografico un'altra questione ho lasciato fuori il primo il primo costituisce rispetto agli altri che utilizza una proiezione cartografica una proiezione cartografica che appunto è la proiezione del risorio sul sistema cartografico Roma 40 è il datum questa proiezione se viene trasformata diciamo al volo nel sistema VGS 84 ha degli errori quindi si utilizzano dei software come... scusate a voi in mente Verto invece è Convergo però in regione Lombardia si chiama Convergo che comunque è fatto dal CISIS è un software che permette le trasformazioni cartografiche e il programma Convergo serve ad eseguire trasformazioni coordinate tra i vari sistemi di riferimento in cui sono espressi i dati geografichi dell'amministrazione regionale considerando anche i rispettivi sistemi di riferimento ho letto proprio la definizione in questi software si possono anche mettere i grigliati EGM che permettono una più accurata trasformazione come si presenta QGIS quando si caricano questi sistemi di riferimento si entra nelle proprietà o del progetto o dello strato informativo e si apre la schermata in cui si possono scegliere i sistemi di riferimento che comunque vengono definiti in qualche modo magari dovrebbero essere definiti nei metadati in qualche modo vengono trasmessi insieme ai dati e si seleziona e poi abilitando la proiezione al volo si effetta questa trasformazione al volo mi sono perso con la mia immagine ok, siamo passati dalla come abbiamo visto dalla verifica del dato alla lettura della struttura leggere la struttura qui ho allegato una tabella che ho esportato che ho fatto il salvaschermo dal mio strato informativo degli edifici se io dassi in giro questa tabella come potete vedere magari già le prime due colonne le salto la seconda colonna è abbastanza chiara perché volutamente ho utilizzato una codifica diciamo semplice volume dell'edificio, numero di piani, codice foto è già qualcosa di strano però potrei immaginarlo e tutta una serie di informazioni qua ho riepilogato un attimo i nomi delle colonne se io distribuissi questa tabella senza delle informazioni molti potrebbero avere difficoltà e questa difficoltà deve essere annullata a 0 appunto allegando comunque una struttura un manuale che permette di leggere la struttura se vedete questa è molto simile a quella che viene data attraverso il database storico a cui viene appunto allegato un manuale per leggere lo schema dati da qui diciamo la necessità di creare una struttura una tabella così codificata non è per rendere difficile la vita ai tecnici è per cercare di archiviare il maggior numero di informazioni e non perdere con tempo perché è un'importante proprietà dei dati che permettono di risalire alle informazioni precedentemente magari ad alcune modifiche e effettuare nel contempo i dovuti test e quindi ad esempio in questa colonna vedo se esiste veramente la foto il codice foto che ho associato e così via per ogni colonna ogni colonna ha il suo significato magari alcune possono essere diciamo delle vecchie informazioni ma anche con i nuovi hardware non c'è quasi nessun problema a gestire cioè a riempire le tabelle di informazioni è molto più importante avere tutte queste informazioni e poterle utilizzare in ogni momento veniamo all'adeguamento della stand in interno terza e quasi penultima fase di solito viene viene consegnato un file CAD derivante da una decina di anni di aggiornamenti che per vari motivi non sono stati aggiornati a sistemi GIS ma l'obiettivo è comunque passare a sistemi GIS chi prima chi dopo bisogna passare a questo sistema perchè? qua ho semplificato dicendo il CAD è grafica il GIS è grafica più informazione se noi leggiamo un file CAD in un GIS abbiamo tutta una serie di colonne che possono essere lette ma le informazioni utili che derivano dal CAD sono poche e ho voluto esagerare ma l'unica informazione utile che deriva da un file CAD è layer si può giocare un po' col colore tipo se ho layer residenziale e lo coloro di giallo vuol dire media densità layer residenziale colore rosso alta densità o magari comunque fare il layer residenziale e media densità e incominciare ad allungare comunque allungare la stringa con cui viene nominato il layer però vi rendete conto che dopo un certo limite incominciano a confondersi tutte queste informazioni nel layer nel CAD c'è il tipo di linea e magari interessante l'elevazione se si vuole procedere con una rappresentazione tridimensionale del dato o comunque fare delle analisi che tengono in considerazione anche la terza dimensione bene detto questo questa grande difficoltà di tirar fuori delle informazioni da un file grafico da un file CAD che è comunque un file grafico abbiamo l'altra faccia che è il GIS nel GIS noi possiamo inserire infinite informazioni ovviamente tutte le informazioni che derivano dal CAD più tutte quelle di cui abbiamo necessità questo è il motivo principale perché si usa il GIS al posto del CAD e perché è un errore fondamentale è un errore gravissimo continuare a utilizzare il CAD per gestire i dati territoriali quindi l'adeguamento dello stand interno ci permette di semplicemente aprire i geodati in QGIS salvare i vari progetti poi ad esempio con i vari software d'ufficio prendere uno screenshot del GIS elaborarlo un po' con un programma di Gimp una buonissima alternativa a Photoshop e comunque open source e poi inserire questa immagine ritagliata e sistemata nel programma di video scrittura che adesso cito Writer di LibreOffice una travalida alternativa di Word sì come ho anticipato prima questi qua sono i dati rilevati da delle centraline di CO2 e quello che dicevo prima è un file molto buono per la stampa ma è sicuramente non adatto ad essere gestito con con software GIS e database ma questo non perché ci hanno difficoltà allora io ho questa tabella in file excel cosa posso fare? stamparla copiare incollare i dati da qualche parte creare nuovi file excel e distribuirla comunque invece tutto quello che posso fare da qui lo posso fare anche da qui perché mediante delle procedure o comunque mediante dei semplici script che permettono di vedere i dati io posso trasformare questa in questa e appunto trasformando questa in questa posso generare tutti gli output che stavo dicendo prima io però non posso estrapolare questa da questa e non posso fare questo passaggio io avendo il file excel così sono bloccato non posso tornare indietro questa qua è uno schema di tabelle che ho tirato fuori direttamente dal database da cui dovrebbero partire tutti i dati dal database tiro fuori la tabella e dalla tabella elaboro delle informazioni diciamo stampabili distribuibili e comprensibili da questa tabella poi posso fare sia una tabella come questa da questo database posso tirare fuori una tabella come questa ma posso tirare fuori anche direttamente dei report in pdf ho appena elaborato un pdf di 250 pagine in cui potevo vedere avere un report di tutti gli edifici di un comune fotografia e informazioni ma perché sono partito da questo? è impensabile generare un report da una tabella come siamo di solito abituati a vedere ho finito e ritorno un attimo sulla sulla struttura che ci siamo lasciati per ultimo per fare un bel ripiego i dati provengono da fonti esterni da geoportali e da quant'altro li archiviamo secondo la procedura che vi ho suggerito con delle cartelle sottomateriale queste cartelle sottomateriale non sono come abbiamo già visto nella prima presentazione possono essere inserite messe sul vostro computer o comunque sul server aziendale e quindi a questo punto dobbiamo verificare il dato leggere che tipologia di struttura e adeguarla allo standard interno queste tre procedure sono quelle sottintese ma vi assicuro che se provate a descrivere un workflow di come gestire i dati vi rendete conto che queste sono delle operazioni sottovalutate che portano via molto molto tempo e poi l'archiviazione come vedremo successivamente nelle prossime lezioni è una fase molto importante ma è diciamo sempre work in progress che permette di archivare il maggior numero di informazioni possibile nel database verrà sempre archiviate nelle cartelle nel caso si faccia qualche errore e si tenga il dato originale e da qui da questo database molto importante si ha esattamente il e da qui da qui parte il sit ho finito ho voluto mettere questa nota vi ricordo che queste adesso la metto subito pubblica ok voi potete visualizzare eventualmente ok si persone specifiche mi potete fare richiesta se volete fare qualche commento comunque sulla pagina pcgis HOA possiamo commentare e comunque procedere baserò su questo il hangout quindi sarà questa la lezione con cui potremo discutere e vi aspetto mercoledì ciao